Ogni due minuti a San Marco vengono commessi un furto, una rapina e un'aggressione. Gruppo Cervo Alarm con più di 70 anni di esperienza vi propone Cervo, l'unico dispositivo di sicurezza che funziona anche quando siete dentro la classe. A soli 39,90 euro al bimestre. Grazie a uno straordinario sensore esclusivo da protezione volumetrica e rileva contemporaneamente e scasso in frazioni e rottura di vetri. Sirena incorporata e non uno ma ben due radiocomandi in dotazione. Prenottate un sopralluogo gratuito con un nostro consulente salesiano. Sia che abitiate in classe e in laboratorio vi basterà una sola unità perché Cervo ha un raggio di azione fino a 500 metri quadri, ma agisce anche su più piani di altezza. Niente figli, niente opere murarie, installazione veloce a pagamento. In caso vi sentiate in pericolo potrete premere il tasto giallo antipanico del radiocomando e Cervo si azionerà immediatamente. Ma attenzione, solo per oggi, compreso nel prezzo, riceverete in omaggio il comodo carrello multiuso. Prenottate il sopralluogo gratuito con il nostro consulente salesiano. Lasciate fuori dalla classe l'adio malviventi. Con Cervo è possibile. Noi siamo sicuri. 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 Noi siamo sicuri.